Ho chiesto l'autorizzazione, mi ha detto di sì, se no non l'avrei fatto, giuro. L'occhio però inizia a vederlo rosso, eh? L'occhio però inizia a vederlo rosso. L'occhio però inizia a vederlo rosso. L'occhio però inizia a vederlo rosso. E' quello che sta venuto con lui e fra un po' riuscirà l'occhio dalle orbite. Basta mangiare pane, basta mangiare pane. Salta, salta e fischia, salta e fischia. Ok, nel buon mondo! Potete venire da Vittorio a vincere? Come stai? Vale. Vale. Quanto dura? Dura almeno venti minuti, effetto. Venti minuti? Venti minuti. Vagli a bere il vino. Vagli a bere il vino. Vagli a bere il vino. No, no, voglio morire con calma. Sfaiti! 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 Che ce l'ha fatta a soprapparare? Vagli a cuore, ma la foto con me! C'e l'ha fatta!